Dopo la bellissima esperienza vissuta con la giornata paralimpica dello scorso ottobre a Nuoro, siamo tornati a ritrovare delle persone anche che ci avevano accompagnato in quella giornata fantastica, l'assessore allo sport del Comune di Nuoro, Rachele Piras, a raccontare di questo progetto in chiusura, ma ci sarà sicuramente un appendice, Agitamus qui a Nuoro, uno spettacolo nello spettacolo. Ringrazio veramente tutti i partecipanti a questo progetto, insegnanti, bambini, perché sono riusciti a rendere speciale questo momento, senza barriere, senza limiti, senza vincoli né fisici né mentali, con veramente la grande realizzazione di quello che è il mio più grande desiderio, fare in modo che le istituzioni contribuiscano a cambiare il mondo. E questo è veramente un punto di partenza e un punto di arrivo. Dal cuore della Sardegna un messaggio che arriva a diritto, come ha detto l'epoca, anzi anche il cuore, ma soprattutto la sensibilità dimostrata dai ragazzi, dai più piccoli, per quella che è l'inclusione, di una normalità davvero disarmante. Ci abbiamo tanto da imparare noi grandi. Sì, e questo è proprio da qua che partiamo. Partiamo da ricostruire la nostra normalità, una sensibilità che abbiamo nel nostro DNA e dobbiamo soltanto ascoltarla.